Allora Già sto sudando come un baccalà Che c'è? Perché ridono? Questa è pure l'amore di suo fratello E questo è il bancariello con i creaturi Andiamo un po' a fare Che dura la vita da tiktoker Andiamo Sono ancora più grande di quello che immaginavo Grazie a tutti Grazie a tutti Non vogliono essere mangiati E quindi 5 minuti al giorno Tutta la logistica Se deve essere una cosa di oggi faccio un po' le cose Le stesse Però ogni tanto la passeggerina Io sobraccio per la foto Io lo faccio Non vogliono essere mangiati 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 Ciao Per la prossima fiera ci dobbiamo attrezzare con un espositore un poco più forte perché sennò non rendono questi genitori E' bello anche qui, bello anche qui, bello anche qui Io voto Collins Penso che lei ha detto solo questo Lei a questo punto ormai ti uccide sia se non lo prendi sia se lo prendi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti